Ciao a tutti e bentornati sul canale Come va ragazzi? Vi auguro come al solito che state bene Allora, ormai penso sia passato quasi un mese Minimo tre settimane, tra le tre e le quattro settimane Comunque ho fatto shopping Ho approfittato dei soldi perché mi servivano delle scarpe estive Dunque io tendenzialmente porto in estate i sandali molto molto bassi Cioè praticamente con la suola piatta Perché mi piacciono molto e sono anche molto comodi Il problema è che soffrendo un pochino di problemi di circolazione A lungo andare a camminare per terra praticamente peggiora un po' la situazione Quindi sono andata con il preciso scopo di prendere delle scarpe estive Che avessero un pochino di zeppa Chiaramente nessun tacco vertiginoso o scomodo da portare Scarpe con un pochino di suola Ecco, a differenza del mio solito Però comunque molto comode da portare anche per camminare un bel po' Tra l'altro, piccola storia buffa Praticamente io ho tre paia di sandaletti estivi A uno manca una perlina All'altro manca un brillantino E all'altro ancora si stavano proprio per rompere Infatti avevo visto che erano quasi rotti Li ho indossati quando sono andata appunto nel negozio E neanche a farlo apposta Appena sono scesa dalla macchina il sandalo si è rotto E praticamente ho fatto shopping con quel sandalo rotto Cioè è stata una cosa imbarazzante Però sono andata proprio al momento giusto Ecco, sapevo che ne avevo bisogno E quindi sono andata proprio al momento giusto Sapete che io sono una di quelle persone che non cambia le cose Perché non sono rotte proprio da portare Comunque sono stata da scarpe scarpe Perché mi sembrava di non averlo detto Queste sono le prime che ho comprato Come vedete venivano 25,99€ E col 70% di sconto le ho pagate 7,80€ Cioè praticamente regalate Sono stata anche molto fortunata a trovare il numero Perché io porto il 39 E sapete che il 39 è praticamente il primo numero a finire Insieme al 38 Quando ci sono i salti Cioè è una cosa impossibile Allora devo stare un pochino attenta a questa Toccarla perché appunto ci ho già camminato per strada Quindi devo stare un po' attenta alla sola Ne prendo una di rappresentanza Allora è questo sandaletto qui Con la fascia Questo è un materiale simile al jeans Infatti c'erano anche identiche Sempre con lo stesso colore qua Solo cordancino Ma blu qui sulla fascia davanti Proprio un blu jeans Che secondo me erano anche molto belle Ma ho pensato che questo colore fosse molto più Sfruttabile con tutto ecco Comunque hanno questa zeppa Non troppo alta Saranno tipo 5 cm E mi piace anche il fatto che abbia il rialzo anche davanti Proprio di un centimetrino Però comunque non hai la pianta del piede per terra Insomma Il laccetto è molto carino Si allaccia così Praticamente alla caviglia E secondo me sono proprio carine 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 Fanno una bella figura al piede Sono comodissime E si possono tenere Sono insomma anche per tutto il giorno Non fanno male al piede Ci si può camminare tranquillamente E per il prezzo che le ho pagate Secondo me ho fatto un affare Poi trovo questo Ho fatto delle zeppe in corda Molto molto estive Molto molto estive Come le faccio vedere insieme Giusto per farvi un'idea Comunque sono semplicissime Ma deliziose E diciamo che queste Hanno praticamente rispettato Tutti i caloni Che mi hanno messa Per un paio di scarpe Un paio di scarpe da tutti i giorni Comode ma leggermente altine Pagate 7,80 euro Non potevo chiedere di più Le altre che ho preso invece Sono state Un piccolo sfizio Però Sono davvero troppo belle Non le potevo lasciare lì Allora le altre che ho preso Le ho pagate un pochino di più Queste venivano 35,99 Con lo sconto del 20% Le ho pagate 28 euro Qualcosa E' una scarpa un pochino più elegante Di un colore Pazzesco Allora Questa non l'ho usata Quindi mi posso spizzarrire Intanto ne prendo una Per farvela vedere E' anche questo Un sandaletto Con la fascia davanti Molto più sottile Con questi Dettagli In oro Ha un tacchettino Molto basso Saranno 3-4 cm Al massimo E questa Invece E' piatta Sul davanti Che secondo me Per camminarci Tanto Tante ore Può A un certo punto Dare un po' fastidio Alla pianta del piede Però Penso che ci metterò sotto Uno di quei cuscinetti Dottor Sciolo Simili Ecco Giusto per avere un po' Di imbottitura Dove il piede appoggia Ad ogni passo Anche queste Anche queste Hanno il cinturino Che si allaccia Sulla caviglia E' un po' Più alto Rispetto All'altro E sinceramente Questo non è il cinturino Perfetto Per me Perché non ho una caviglia Proprio sottilissima Quindi secondo me Va un pochino De enfatizzare Questo difetto Però Anche Sti cavoli Lo trovo Elegantissimo Come Metodo Insomma Per allacciare Il sandaletto Mi piace tantissimo Il dettaglio Del cinturino Sulla caviglia Quindi sinceramente Chi se ne Il colore Secondo me Non rende In video E' un rosa cipria Leggermente più scuro Rispetto a come lo vedete voi Ma è una delizia Veramente una delizia Allora Le ho pagate Un po' di più Rispetto a quanto avrei voluto Nel senso che Io quando vado per saldi Cerco sempre l'affare Come appunto Le scarpe di prima Di solito Le scarpe scontate Solo al 20 O al 30 Perciò Non le guardo nemmeno Io vado dal 50 In su Perché mi piace Fare l'affare Però ragazze Sono troppo belle Queste Non lo so Io le trovo elegantissime E comode Sono comode Perché Sono basse E pur essendo basse Sono molto eleganti Vanno benissimo Per una cerimonia E sono belle Fanno il piedino Molto raffinato La cosa che mi ha fatta Un po' storcere il naso Me ne sono accorta a casa Purtroppo Se non le avrei prese E che qui È scollata Vedete Provandole Non me ne sono accorta Perché Non ci ho proprio fatto caso Adesso le bloccherò Con Dell'attaca Credo Perché la fine Mi sa che viene via subito Comunque Ci metto della colla E chi si è visto Si è visto Però Insomma Non è che Mi ha fatto piacere Scoprire questa cosa Ecco Comunque Ve le faccio vedere insieme Sono bellissime Scoprire questa cosa Poi mi servivano Anche un paio di scarpe Da ginnostica Di quelle da battaglia Molto leggere Ma con la sola Anche quelle un po' Un po' rialzata Da usare Per andare In passeggiata Col cane Però Le uniche Che avevano Dei prezzi apportabili Perché poi Non ci voglio spendere 100 euro Non c'era un numero Neanche a dirlo Quindi Non le ho prese Non le trovate Magari farò Un altro giro Più avanti Non si sa mai Che trovo qualcosa Di carino Poi Da scarpe a scarpe Ho comprato Anche questi orecchini Le ho pagati 4 ore 90 Mi sembra Comunque sono Molto carini Mi è piaciuta Sia la forma Che Il materiale Non so come spiegarvi È tipo metallo Però non sembra Quel metallo Che Si spellicola Piano piano Con l'utilizzo Con l'utilizzo Sembra Molto più Resistente E in più Mi piace tantissimo Il colore È questo Un crocio Tra un grigio E un nero Mi piace tantissimo E sinceramente Li sto usando Praticamente Tutti i giorni Da quando li ho presi E non hanno Il minimo Di effetto Quindi Mi piacciono Davvero molto Poi Siamo stati In un negozetto Di cinesi Così Giusto per fare un giro E Ho visto Una borsa Scontata Che mi è piaciuta Tantissimo E per essere onesta Non mi serviva Ma quando l'ho vista L'ho pensata Troppo bene Assieme alle scarpe Che vi ho appena Fatto vedere E quindi L'ho presa Tentata dal prezzo Fondamentalmente Anche perché Pur essendo Dei cinesi È rifinita Molto bene Non puzza E mi è piaciuta Davvero tanto Adesso ve la faccio vedere Ha questa forma A cartelletta Praticamente E dentro È foderata Tutta di porto Io non penso Che voi riusciate A vederlo Ma è Foderata Molto bene A parte Qui che c'è Un filetto Ma Le cucitore Sono fatte Tutte Molto bene Qui c'è una tasca Con la cerniera E qui sotto Ci sono altre due Taschine Senza cerniera Non è capientissima Però Comunque Ci sta un bel po' Di roba Dentro C'è anche Questa qui Che è La tracolla Regolabile Vedete C'è qui Il Come si chiama Insomma Avete capito Per regolarla Poi C'è la cerniera Più grande Qui sul lato Ci sono Questi due Buttoncini Che si possono Tire aperti O chiudere E poi Ha La sua Maniglina Color oro E Secondo me Abbinata A questa Scarpa Che è Di un rosa Differente Ma comunque Che si abbina Molto Molto bene E ha Appunto Anche questa I dettagli In oro Ci sta D'addio In realtà Io Ho già Una borsa Rosa Piccina Un po' Più piccola Di questa Però è Un rosa Freddo Mentre Questi sono Due rosa A tendenza Calda E quindi Stanno Molto Molto Meglio Insieme Allora Questa Veniva 16,90 A prezzo Pieno E io L'ho pagata 10 Finalmente Un cartellino Su cui Tappingare In realtà C'era C'era Di tantissimi Colori Tra cui Anche Un azzurro Blu Che mi piaceva Tantissimo Però Non avrei saputo Come abbinarlo Cioè Oltre che Quei jeans Non avrei Veramente Saputo Come Abbinarla E poi Quando ho visto Questa Ho pensato All'abbinamento Con quelle Scarpe E l'ho trovato Semplicemente Perfetto Azzeccatissimo L'unica Cosa Che un pochino Mi perprime E che La tracolla Non può essere Agganciata Qui sui lati Ma deve essere Agganciata Qui E secondo me Diventa Poco elegante Agganciata Di la tracolla L'avrei preferita Agganciata Sull'esterno Ecco Ora vedremo Vedremo Come verrà Indossata Al limite Appunto Se È per un'occasione Elegante Che la devo Indossare Posso sempre Pensare Di portarla Così A mano Insomma Con questa Tracollina Qui O come bustina Insomma Sotto il braccio Anche se è un pochino Grande Comunque Mi è piaciuta Molto Vedete Anche dietro Com'è rifinita bene Qua cucitura Secondo me È fatta Molto 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 Bene In realtà Ultimamente Ho notato Che i cinesi Se sai Cercare Tra le borse Hanno Veramente Delle cose Fatte Molto Bene L'ho Visto Anche Con uno Zainetto L'ho Comprato Almeno Due Anni Va E ce l'ho Ancora Immacolato Cioè Non si è rovinato Per niente E l'ho Usato Tantissimo Pagato Tipo 12 Euro Certo Bisogna Fare un po' La selezione Perché ci sono Alcuni Che si vede Proprio Che a plasticaccia E altri Che sono Confezionati Un pochino Meglio Sicuramente I materiali Non sono I gelsi Però si vede Che sono Confezionati Un pochino Meglio Eccoci qua Ragazzi Il mio shopping Con i soldi Per quest'anno È finito Almeno Per il momento Io Come al solito Vi auguro Tantissima Serenità E se il video Vi è piaciuto Vi aspetto Al prossimo